Quanto si è lavorato per arrivare a questo momento? Diciamo che c'è un anno di lavoro dietro, 40 giorni di lavoro intenso per accogliere i fondi e per poter fare il tutto e più di 50 persone mobilitate per riuscire a organizzare il tutto 7100 mortaletti recuperati, caricati e estesi sulla passione della Tamale di Rapallo pronti a dare spettacolo Uno spettacolo è l'insegna della tradizione quest'anno? L'insegna della tradizione perché si ritiene di fare una sparata tradizionale che è una sparata lunga per gli esperti del settore con un intercalare molto raro di riondini cosiddetti, di Ramadan perché da noi sono Ramadan e sono riondini e per cui è concentrata un pochettino, ci sono pochi riondini nella prima parte e tutto è per rimanere più o meno nella regola della sparata classica E poi la sparata finale, il Ramadan, cosa è stato disegnato? Il Ramadan è su un bellissimo disegno fatto da un maestro decoratore, Nosso Massaro per cui siamo fortunati anche ad averlo tra le nostre file e Mauro Sergiolini, conosciuto, tra l'altro è l'ultimo nato a Montallegro per cui c'è anche una parte sacra della cosa e ha realizzato un bellissimo disegno a terra con delle volte, delle volute